Il contagio dei pazienti e del personale medico infermeristico delle parti di medicina interna e chirurgia del Cardarelli di Campobasso continua a far discutere. Ieri sera l'ultimo provvedimento da parte dell'azienda sanitaria regionale con il quale si è predisposto il blocco dei ricoveri in chirurgia, misura fortemente richiesta anche dal primario del reparto Giuseppe Cecere che aveva preannunciato anche la denuncia alla procura della Repubblica se l'ASREM non si fosse mossa in questa direzione. Il provvedimento adottato è una prima risposta alle tante domande che provengono dalle istituzioni e dai cittadini preoccupati di quanto accaduto all'interno della struttura sanitaria. Sulla questione queste le parole del direttore generale dell'ASREM Oreste Florenzano. È un cluster che si è verificato come è già accaduto nell'ultimo periodo. È successo a Termoli, è successo in anestesia. Sono accadimenti che possono succedere. Il concetto che viene strumentalizzato però è che questa cosa è accaduta perché l'ospedale è un hub covid. È un ragionamento assurdo perché le persone che sono ricoverate in chirurgia e gli operatori che sono in chirurgia non sono gli operatori che sono addetti al covid. Anche se avessimo avuto il famoso larino covid, la persona che va in chirurgia va in chirurgia e quello che è accaduto, queste persone non sono passate per un reparto covid, sono venute da fuori e sono entrate in ospedale. Noi abbiamo una procedura che prevede un tampone rapido e un tampone molecolare e abbiamo dato già a marzo del 2020 delle precise disposizioni su quali sono i protocolli da utilizzare perché non avvenga quello che è avvenuto. L'unidì abbiamo programmato un incontro con i responsabili dei reparti perché vogliamo sapere quello che è accaduto all'interno del reparto e se le nostre disposizioni sono state eseguite.